Buongiorno a tutti, mi chiamo Caterina Padovani e sono responsabile dell'Unità Aria e Clima del Comune di Milano. Vi parlo ora del piano aria e clima del Comune di Milano. Perché parliamo di un piano aria e clima? L'inquinamento dell'aria è una delle maggiori, se non la maggiore criticità ambientale per la nostra città, con importanti ripercussioni sia sugli abitanti che sull'ambiente e per quanto concerne il clima è evidente a tutti noi, sono evidenti quali sono gli impatti del cambiamento climatico a livello umano, soprattutto negli ultimi anni con inverni meno rigidi, estate più calde, ondate di calore, un aumento del numero di notti tropicali e dei giorni di pioggia estrema. Come Comune abbiamo aderito a diverse iniziative internazionali, tra cui il Network C40, la Urban Agenda Partnership on Air Quality, il fatto dei sindaci, la rete 2020 Resilient Cities e l'iniziativa europea Climate Kick. Dall'adesione a queste iniziative internazionali è scatturita la sottoscrizione di diversi impegni in tema di inquinamento atmosferico, decarbonizzazione e adattamento. Per quanto riguarda l'inquinamento atmosferico, la qualità dell'aria a Milano è nota o non rispetto ai valori limite previsti della normativa europea e recepiti a livello nazionale, per quanto concerne il numero di giorni di superamento all'anno del PM10, l'indicatore di esposizione della popolazione delle particelle più settili, quindi PM2,5 e per la concentrazione media annua dei biostrido di azoto. In tema di decarbonizzazione, quindi su inquinamento atmosferico, quello che ci stiamo impegnati a fare è di rientrare al più presto nei limiti fissati a livello europeo e di tendere a quelli fissati dalle linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che sono molto più restrittivi rispetto a quelli europei. In tema di decarbonizzazione, cioè di emissioni di gas clima alteranti che vengono espressi in CO2, il Comune di Milano si è impegnato a diventare città carbon neutral nel 2050, per contribuire al mantenimento dell'incremento della temperatura del pianeta entro un grado e mezzo in linea con gli obiettivi dell'Accordo di Parigi. Ci siamo poi impegnati a individuare delle misure di adattamento del sistema urbano come occasione per avviare i processi di riqualificazione della città e miglioramento della qualità di vita. Questo modello di sviluppo urbano del piano aria-clima è assolutamente in linea con quello necessario per far fonte all'attuale emergenza sanitaria. Cos'è il piano aria-clima? È un piano integrato in quanto è finalizzato a ridurre oltre all'inquinamento atmosferico anche a contribuire alla prevenzione dei cambiamenti climatici con politiche di mitigazione e di adattamento e questa transizione verso una città di emissioni zero viene affrontata in modo integrato anche sotto il profilo dell'equità come giustizia ambientale e sociale. Il piano inoltre è un piano trasversale e di indirizzo strategico per altri strumenti di pianificazione già previsti a livello comunale, in quanto li orienta verso obiettivi comuni di riduzione dell'emissione di gas serra, miglioramento della qualità dell'aria e adattamento. Per cui il piano interagisce, il piano aria-clima interagisce con tutta una serie di piani, i più importanti sono il piano umano della mobilità sostenibile, il piano del governo del territorio, la strategia di resilienza e l'economia circolare e food policy, poi ce ne sono molti altri e costituisce il piano aria-clima per quanto concerne le azioni di mitigazione, il proseguimento del piano d'azione per l'energia sostenibile sviluppato negli anni passati che aveva come obiettivo temporale della riduzione della CO2 del 20% entro 2020. Quindi sulla base degli impegni assunti le sfide di piano si riassumono e si sviluppano su tre periodi temporali, di breve, medio e lungo periodo. Per quanto concerne la qualità dell'aria, entro il 2021 la sfida è quella di definire una strategia finalizzata rispetto delle linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per PM10, PM25 e ozono, per rispettare entro il 2025 i limiti fissati a livello europeo per il PM10, PM25 e il biossido di azoto che oggi non rispettiamo e arrivare a rispetto dei valori indicati dalle linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che sono molto stringenti entro il 2050. Per quanto concerne invece le emissioni di CO2, l'impegno è la sfida di medio periodo è quella di ridurre del 45% le emissioni di CO2 rispetto all'anno di riferimento 2005 con azioni locali, quindi in linea con quanto richiesto dal patto dei sindaci e dalla dichiarazione di emergenza climatica da parte del Consiglio Comunale nel 2019, se a queste azioni locali vengono sommate anche le azioni sovracomunali derivanti principalmente dalle politiche nazionali di rinnovo degli impianti di produzione e di uso delle fonti rinnovabili, questo valore di emissione di CO2 arriva fino al 60% per arrivare poi a una città carboniutra dal 2050. Le azioni di adattamento invece mirano a contribuire a contenere l'aumento della temperatura urbana entro i 2 gradi centigradi da qui al 2050. Giunta a queste sfide vi è la necessità di costruire una città più forte, in grado di far fonte a tutti i rischi e le emergenze climatiche in un'ottica di maggiore equità sociale ed economica. Vediamo ora come raggiungere le sfide. La lotta al cambiamento climatico deve integrare l'investimento in soluzioni tecnologiche innovative, convolgendo tutti gli attori. È necessario quindi armonizzare gli interventi nei principali settori, soprattutto la ricerca e l'economia. Quindi siamo partiti da una visione di riferimento di Milano del 2050 sviluppata su 5 ambiti, per poi definire in modo dettagliato 22 obiettivi di medio periodo, quindi 2025 e 2030 e 49 azioni di piano necessarie per raggiungere questi obiettivi. molti degli obiettivi delle azioni sono in linea con quelli fissati dall'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile approvata dall'ONU nel 2015 e per ogni azione del piano sono stati definiti in modo dettagliato, responsabili, i vari step della fase attuativa, i tempi di attuazione e i costi. Alcune azioni sono state ritenute prioritarie rispetto ad altre, che pertanto sono state avviate già nel 2020, in quanto impattano direttamente sulla salute, in particolare quelle di riduzione dell'inquinamento atmosferico, perché rispondono alle esigenze e necessità legate all'attuale situazione di emergenza sanitaria e perché hanno riflessi immediati in termini di equità. I cinque ambiti sono i seguenti, Milano sana inclusiva, una Milano connessa altamente accessibile, che si muove in modo sostenibile, attivo e sicuro, una Milano energia positiva che consuma meno e meglio, una città Milano più fresca e Milano consapevole che adotta dei stili di vita consapevoli. Per definire obiettivi e azioni di piano sono stati definiti gli scenari emissivi, cioè a partire dal profilo climatico della città di Milano è stato definito uno scenario di base che non è altro che l'analisi delle concentrazioni delle emissioni atmosferiche, delle emissioni di CO2 al 2017 come bilancio, poi è stato sviluppato uno scenario tendenziale, uno scenario di riferimento sia al 2030 che al 2050, che comprende anche gli effetti legati alle azioni che al momento sono previste in altri piani, sia comunali che regionali e la differenza tra i valori emissivi dello scenario di riferimento e quelli fissati dalle sfide di piano, costituisce il delta di emissioni su quali sono state dimensionate le azioni del piano aria e clima, sia in termini di inquinanti atmosferici che riduzione di CO2. Questo è il primo ambito, una Milano sana inclusiva che è costituito da 9 obiettivi e 17 azioni, un obiettivo, il primo è quello di rimodulazione dei tempi degli spazi della città implementando il lavoro da remoto, per cui un obiettivo trasversale che agisce sia su mobilità che sulla riqualificazione urbana, in linea anche con le attuali esigenze di emergenza sanitaria. Poi ci sono 5 obiettivi che riguardano la riduzione dell'inquinamento atmosferico, di prossimità e non, e in particolare le azioni sviluppate riguardano tutte le fonti emissive che impattano sull'inquinamento atmosferico, ma diverte dalla mobilità, che sono invece state sviluppate nel secondo ambito. Poi c'è un'azione che riguarda lo sviluppo di un fondo per l'aria a supporto delle sfide particolarmente impegnative di rispettare i limiti della qualità dell'aria entro il 2025, ci sono 6 azioni di sviluppo dell'economia circolare, per cui come riduzione del consumo delle materie prime, riduzione della produzione di rifiuti e degli sprechi, applicazione dei criteri green a diversi ambiti, sia dell'amministrazione che delle società partecipate, in termini di acquisti, eventi, settore oreco, eccetera. Ci sono due azioni di progettazione urbana sostenibile, sempre nell'ottica di ripensare agli spazi della città e un obiettivo con relativa azione sulla comunicazione di rischio e la gestione resiliente delle emergenze. Il secondo ambito è quello relativo alla mobilità, quindi Milano connesse e altamente accessibile. Milano è tra le città europee con maggiore congestione da traffico e un maggior numero di auto per abitante. Le regole attualmente previste dall'area B consentono di rispettare entro il 2025 i limiti normativi per la concentrazione di biossido di azoto, mentre per quanto concerne il particolato, le misure sovracomunali che sono il piano regionale, gli interventi della qualità dell'aria, quindi il PRIAM, mirano a rispettare entro il 2025 il numero massimo di superamenti del PM10 previsto a livello europeo, ma è opportuno comunque attivare delle misure locali che rafforzino quelle regionali e soprattutto nell'ottica di avvicinarsi ai valori fissati dalle linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Poiché è l'attrito dei veicoli che contribuisce in modo rilevante all'emissione delle polvere atmosferiche, non basta trasformare il parco veicolare riducendone l'impatto agli scarichi, ma è indispensabile ridurre drasticamente le percorrenze, fornendo una valida alternativa ovviamente per gli spostamenti, per cui la visione di una Milano connessa altamente accessibile è quella di una città ciclopedonale, in linea con la visione carbon neutral, limitando quindi il traffico al solo trasporto pubblico, merci, emergenziale e di servizi speciali che saranno tutti elettrici. Per cui ci sono tre azioni, le prime tre che agiscono sull'obiettivo di una riduzione netta della mobilità personale e motorizzata a uso privato, pensiate che un calo del 50% dell'auto privata a Milano corrisponde a una riduzione di auto pari a oltre un milione al giorno. E poi c'è un obiettivo che riguarda invece l'istituzione di una zero emission zone nel centro storico. L'energia positiva è il terzo ambito, la sfida alla neutralità climatica del 2050 richiede di avviare fin da ora una transizione energetica per ridurre entro il 2030 l'emissione di CO2 al 45%, queste sono le sfide di cui vi ho parlato prima. Quindi è indispensabile un investimento in soluzioni tecniche realistiche e accessibili, garantendo sempre l'equità sociale con programmi di sostegno alle fasce deboli della popolazione, convozzendo i cittadini e i vari attori del territorio. Gli inventari delle emissioni al 2017 confermano che a Milano i settori di maggiore consumo energetico sono quello energetico civile, la mobilità, i trasporti e il terziario produttivo. Nonostante gli strumenti di incentivazione locali e nazionali attualmente in essere, il numero di interventi di riqualificazione profonda del patrimonio edilizio è molto contenuto. Questo impone di individuare una strategia per accelerare la riqualificazione energetica profonda degli edifici privati in città. In parallelo alla strategia di riqualificazione del patrimonio edilizio, che agisce sia sul patrimonio privato che su quello pubblico, è necessario avviare un processo di decarbonizzazione dell'energia termica, col passaggio progressivo dai combustibili fossili a fonti rinnovabili e calore di recupero. Infine, considerando che i consumi elettrici sono la voce principale dell'inventario delle emissioni di CO2 perché incidono del 50%, di cui il 37% è imputabile al terziario produttivo, la copertura con produzioni da fonti rinnovabili è un passaggio fondamentale per ridurre l'emissione di CO2. Occorre per questo realizzare prima di tutto impianti di produzione locale attraverso lo sviluppo di comunità energetiche e incoraggiare le grandi utenze private a consumare energia elettrica rinnovabile, definendo così una strategia che renda più efficienti i consumi elettrici nel terziario e nel produttivo. Milano più fresca è il quarto ambito. Milano è un insediamento urbano accentrato, molto esposto sia al rischio di effetto di isola di calore sia al rischio idraulico, entrambi i rischi sono amplificati dal basso indice di permeabilità e dall'alta densità edilizia tipica della nostra città. A causa dell'effetto di isola di calore pensate che a Milano si registrano temperature di 2 gradi più alte che nelle aree rurali circostanti, con effetti molto negativi in estate a causa della combinazione con le ondate di calore. Per cui il piano individua una serie di misure per incrementare il verde urbano in tutte le sue forme, quindi sia di forestazione che tetti e pareti verdi e incrementare le superfici drenanti, così da rispondere all'aumento delle temperature in estate e diminuire il rischio di allagamento e esondazione in occasione degli eventi termeteorici estremi. Per cui sono previste anche misure che incrementano la vegetazione, misure che modificano l'albedo e l'emissività degli elementi urbani edilizi per sviluppare una gestione integrata delle acque meteoriche che riduca sia i fenomeni alluvionali che la temperatura dell'aria. Infine l'ultimo ambito è quello di una Milano consapevole, per cui coinvolgere un'intera città nel raggiungimento degli ambiziosi obiettivi del piano significa in primo luogo far partecipi di questa sfida a tutti gli attori, quindi cittadini e imprese. Quindi sono azioni di informazione, sui cittadini, così come sulle imprese che è il secondo obiettivo e infine si dà rilevanza a quella che è l'innovazione che è al centro di tutta l'attività e di tutto lo sviluppo del piano aria e clima. Gli effetti del piano sono stati computati in termini di qualità dell'aria, per cui concentrazioni, in termini di riduzione dell'emissione di CO2, ma anche in termini di impatto sulla salute dei cittadini, quindi miglioramento della salute dei cittadini espressi come costi esterni e poi ogni azione è stata valutata anche come effetti in termini di inclusività ed equità. Questo è un esempio per i due inquinanti di ossido di azoto PM10 di come sono stati valutati gli effetti di piano. Per quanto riguarda gli inquinanti atmosferici, è stato quantificato per ogni azione il contributo in termini di emissioni evitate, per cui poi è stato fatto il calcolo della riduzione totale delle emissioni come sommatore dei contributi di tutte le azioni e da qui si è risaliti alla riduzione in termini di concentrazione per ogni inquinante. Quindi qua vedete la concentrazione di biossido di azoto, si vede che il rientro nei limiti è previsto per il 2025 e per il PM10 in termini di concentrazione al 2050 con le azioni previste si tende a rispetto dei valori fissati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità che è la retta più bassa del grafico. Per quanto concerne gli effetti del piano in termini di emissioni di CO2, ogni azione è stata quantificata come emissione di CO2 evitata, per cui a partire dal risparmio energetico, poi sono state sommate tutte le emissioni evitate come sommatoria dei contributi di tutte le azioni, sono state espresse in percentuale di riduzione di CO2 rispetto al 2005 che è l'anno di riferimento, per cui dai grafici si può vedere che al 2030 con le azioni locali, che è il grafico sulla sinistra, si arriva al meno 45,9% di CO2 rispetto al 2005, se a queste azioni locali aggiungiamo anche l'effetto previsto dalle azioni sovralocali quindi nazionali, si arriva fino a una riduzione del 60%. Per quanto riguarda l'obiettivo di neutralità carbonica, avendo noi lavorato su obiettivi di medio termine e azioni che hanno una durata da qui al 2030, ovviamente andranno rivisti sia obiettivi che azioni dopo il 2030 tenendo conto dell'innovazione tecnologica al fine di ottenere la neutralità carbonica, che con le azioni previste ad oggi ovviamente al 2050 non è possibile raggiungere. Gli effetti sulla salute dei cittadini, come dicevo prima, per l'inquinamento atmosferico sono stati rappresentati come costi esterni, pensate che l'85% dei milanesi risente del traffico di prossimità perché risiede a meno di 75 metri dagli assi stradali, si stima che gli abitanti di Milano perdano in media due o tre anni di vita a causa dell'inquinamento atmosferico, nel 2017 sono stati registrati 550 decessi per inquinamento atmosferico di cui 422 attribuibili al diossido di azoto, per cui da queste valutazioni sono stati poi calcolati i costi esterni attribuibili al mancato rispetto dei valori limite europei che corrispondono a 680 milioni Euro anno e se riferiti al valore dei valori limite guida alle organizzazioni mondiali della sanità, che sono molto più restrittivi, sono computabili in 2,25 miliardi di Euro anno, stiamo parlando di costi valutati per Milano, quindi non poco. Come effetti di piano si è valutato che i costi evitati con l'attivazione di tutte le azioni contenute nel piano corrispondono a 2 miliardi di Euro se rispetto allo scenario di riferimento, cioè rispetto allo scenario di riferimento tendenziale al 2030, l'attuazione di tutte le azioni, la messa in campo di tutte le azioni previste dal piano consente un risparmio di 2 miliardi di Euro. È fondamentale il monitoraggio del piano, per cui è previsto un programma di monitoraggio entro sei mesi dell'approvazione che sarà sviluppato su diversi livelli, un livello generale di monitoraggio dello stato di avanzamento delle azioni di piano, un livello invece che va a valutare l'efficacia delle singole azioni in termini di riduzione delle emissioni e l'efficacia complessiva del piano, una che riguarda invece i costi necessari e i finanziamenti necessari per l'attivazione di tutte le azioni, quindi sarà un monitoraggio almeno annuale, mentre il resto dei monitoraggi verrà fatto ogni due anni e poi è previsto anche un monitoraggio degli indicatori di performance rispetto all'inclusività delle azioni, all'incidenza delle azioni in termini di inclusività. È importantissimo in un piano così complesso anche la governance, per cui c'è una governance politica che è fondamentale e che è stata individuata nei tavoli inter-assessorili col costante presidio da parte della direzione in transizione ambientale rispetto a eventuali criticità che dovessero emergere in fase attuativa. Poi verrà istituito un gruppo tecnico di lavoro affiancato da un comitato tecnico scientifico di esperti esterni. È fondamentale la partecipazione attiva dei cittadini per il raggiungimento delle sfide di piano. Da ultimo la governance istituzionale con gli enti sovralocali, quindi Regione Lombardia, Arpa e Città Metropolitana. Alcune delle attività del piano sono state realizzate all'interno del progetto europeo Climate Kick di Demonstrator Milano e al sviluppo del piano hanno contribuito oltre al Comune di Milano anche l'Agenzia Mobilità Ambiente e Territorio, AMAT, e il Politecnico di Milano con il Dipartimento di Energia e Poliedra. Grazie per l'attenzione.